segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te perché vedo la col uccello luciana eccoci buon pomeriggio riggio dove sei esattamente io in questo momento sono tornata a kramatorsk e sono sono stata in giro per i paesini scusate io sempre un ritorno sono sono state in giro per i villaggi del donbass che sono soprattutto a nord sono in questo momento quelli che stanno soffrendo di più perché i russi molti di questi villaggi hanno sfondato soltanto lo scorso sabato nell'arco di una giornata 42 villaggi sono caduti in mano russa e quindi la situazione nei villaggi è questa e soprattutto c'è una situazione di c'è una situazione di stanchezza da parte dei da parte dei soldati voi parlavate di resistenza in studio e la resistenza qui si sente molto guardando la collaborazione tra i volontari non soltanto i volontari della difesa territoriale quindi quando dico volontari non intendo solo chi combatte in maniera volontaria ma i volontari come questo ragazzo ad esempio che appunto per incentivare per aiutare il i militari a combattere raccoglie informazioni su che cosa sui bisogni di questi di questi militari ad esempio qui stiamo vedendo delle torce molto spesso sono sono un vestiario sono cibo sono sono a power bank sono sono cose di qualsiasi tipo insomma ma la cosa più importante che vengono raccolte anche a munizioni che sono costosissime ad esempio questo volontario prima mi spiegava che hanno acquistato per i cecchini delle le armi da 7 mila dollari luna e che servono appunto per guardare di notte per capire se hanno di fronte un nemico e capire appunto semplicemente dalla temperatura corporea se appunto c'è qualcuno che si aggira oppure ad esempio dei silenziatori per kalashnikov sono armi molto costose che l'esercito volontari questa rete incredibile da chi li comprano allora loro hanno un in questo caso hanno un sito sito dove praticamente possono accedere tutti ed è un sito che compra principalmente negli stati uniti quindi loro si fanno ad esempio aiutare molto dal canada semplicemente perché è nato tutto nei giorni immediatamente successivi il 24 di febbraio semplicemente perché questo volontario che vedete ha metà della sua famiglia negli stati uniti e quindi ha spiegato la situazione ha chiesto aiuto hanno iniziato a fondare un team di cinque persone da cinque nel frattempo sono diventate 200 e dalla da karkiv adesso aiutano appunto i militari in tutta l'ucraina ho trovato un modo per far arrivare queste armi e poi farle anche arrivare a destinazione all'interno dell'ucraina che in questo momento non credo che ci si possa muovere agevolmente immagino non ci si esatto non ci si può muovere agevolmente ci sono i problemi che abbiamo raccontato tante volte a livello di carburante di benzina però i modi diciamo che i volontari i modi per aiutare i militari li trovano sempre questo ragazzo che vedete sì questo questo ragazzo che vedete ad esempio è uno che dice io non ho mai toccato un'arma mi hanno sempre fatto orrore le armi eppure dal 25 di febbraio subito ordinato un kalashnikov e una pistola e dormo ogni notte la resistenza ucraina non è solo quella dei militari ma è appunto di tutti quelli che hanno deciso di mettersi in gioco e di dare una mano in qualunque modo imparando ad usare un'arma ordinando in rete le armi per darle poi ai militari questo è il senso no mi chiedo anche alla regia scusami luciana voglio far capire bene dove ti trovi perché tu ci hai detto 42 villaggi praticamente nelle ultime 24 ore se non ho capito male vorrei capire intorno a quale perimetro alessio se mi aiuti anche tu con la cartina me la mettete la cartina eccoci qua queste cramatorsk tu adesso sei a cramatorsk giusto esatto esatto e arrivavi da nord di donesk quindi qui quindi no qui esatto quindi praticamente stiamo parlando dei villaggi che vanno verso isium che già oblast di kharkiv ed è occupata esatto e che ormai occupata da un mese praticamente ma quindi a questo punto stanno entrando velocemente c'è 42 villaggi presi in così poco tempo in 24 ore allora quello che dicono i militari ovviamente militari resistono ovviamente militari ti dicono stiamo resistendo ce la faremo la verità è che nei piccoli villaggi purtroppo i russi stanno sfondando hanno cambiato anche tecnica sempre da quello che ci hanno spiegato alcuni alcuni militari ucraini cioè la tecnica adesso è quella di avanzare lentamente per quanto 42 villaggi sembri appunto sembri una cosa molto veloce in 24 ore in realtà la tecnica è quella di avanzare lentamente e poi avere il tempo di riposizionarsi perché il loro obiettivo finale ovviamente quello di circondare le città di sloviansk e kramatorsk che sono appunto le città principali e sono il il vero appunto obiettivo in questo momento per la kramatorsk non ci sono sirene che suonano non ci sono bombardamenti siamo riusciti a parlare con te abbastanza tranquillamente in questo momento sì io ti posso dire che la sirena è suonata tutta la notte anche stavolta e io mi sono svegliata alle 7 di mattina con un tonfo probabilmente un missile che fortunatamente non ha fatto danni anche perché la città è sempre più deserta quindi si respira la tensione diciamo che che c'è ogni giorno lo dicevate prima non c'è stato cessate il fuoco nemmeno per pasqua ieri c'è stata la pasqua ortodossa e da entrambe le parti proprio non non c'è stato un cessate il fuoco quindi io ho seguito una messa di militari ad esempio ed era uno stress continuo una roba che di solito dura delle ore invece è stata è durata proprio il giusto il tempo di una benedizione quindi non più di dieci minuti grazie luciana grazie davvero buon 25 aprile anche a te e anche se sei lì e non sei qui in italia e è Grazie a tutti.